Nuovo piano di governo del territorio del comune di Cremona equivale secondo me a una diffusione sul territorio comunale di una serie di bombe sepolte, chiamiamole così, di mine in sostanza. Il nuovo PGT, piano di governo del territorio di Cremona, rischia di minare la morfologia della città del Torrazzo. Tante le criticità emerse da un'attenta visione del documento. Tra i pericoli più grandi, quello della trasformazione del parcheggio di Foro Boario in un quartiere residenziale. Foro Boario è l'unico parcheggio razionale di servizio al centro storico che soddisfi efficacemente le esigenze di chi arriva a Cremona e deve operare in quella parte di centro storico che confluisce su Porta Venezia. Beh, la scadente amministrazione non ha avuto altro di meglio di pensare che costruire su questo parcheggio. Costruire cosa? Costruire palazzoni. Non solo opere imponenti ma anche la possibilità di costruire altane e una sanatoria che consentirebbe la ricostruzione delle casette in area agolenale. Ci sono poi delle piccole mine piazzate addirittura una ciascuna per ogni edificio del centro storico. Basti pensare che i nostri amministratori hanno avuto la bella pensata di consentire a ogni edificio del centro storico di erigere una torretta. Contro ogni logica amministrativa il nuovo piano regolatore consente invece al comune di Cremona di rilasciare concessioni edilizie per la demolizione e ricostruzione di queste casotte. Cosa gravissima proprio perché si trovano tutte in zona agolenale quindi soggette a periodici allagamenti. Solo la crisi economica però ha paralizzato il sistema. La crisi economica che tiene ferme tante operazioni sbagliate che invece il piano regolatore si proponeva di avviare.